Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Troppi furti nelle case di Rusco, il comune amministrato dal sindaco ciriaco De Mita. L'allarme è stato lanciato dai due consiglieri di opposizione Gianni Marino e Lucio Molinario, i quali, dati alla mano, hanno dimostrato che il 2017 è stato un anno da record per numero di case sbaliggiate. Da qui la proposta di installare una serie di telecamere nei luoghi più critici del paese. Buona idea, si attivi una telecamera speciale però soprattutto nella casa comunale. Quanto a tipi poco raccomandabili annusco come altrove luoghi più critici dei municipi non ce ne sono.